Il vecchio Asur viveva all'ultimo piano del reparto compositori, un magazzino cadente con vecchi schedari, collezioni di giornali sbranati dalle tarme, piglie di dischi, migliaia di fotografie che l'umidità aveva cementato in una feta da pasta sfoglia. C'erano anche montagne di bicchierini di carta usati, una vecchia macchina espressa in funzione e un vecchio schermo con un proiettore Klaziak. Tutta la stanza era sporca e polverosa, ad eccezione di un grande tavolo da riunioni dove stava ben lucidata una collezione di modellini di aereo. Erano gli aerei caduti negli ultimi trent'anni. Vicino a ogni aereo c'era una scatola di diapositive, erano le foto dei passeggeri morti. Asur le aveva quasi tutte. Si faceva dare le copie dagli archivi, poi le scambiava con l'unico collezionista al mondo oltre lui, un compositore giapponese. Da poco aveva avuto i due passeggeri mancanti del 19 caduto in Indonesia nel 1976. In cambio aveva dato un pilota russo caduto sugli Urali. Quando Atarva entrò, Asur non sembrò contento di vederlo. Se c'era qualcuno più misantropo di Atarva in quel reparto era proprio il vecchio. Non usciva dall'ufficio da vent'anni. componeva su un computero di modello antiquato che riparava lui stesso con gocce di piombo, graffette e loctite. Ma era un artista e poteva insegnare a tutti, meno che ad Atarva, naturalmente. Non alzò nemmeno gli occhi dal suo lavoro quando sentì i passi del collega. Stava componendo le false biografie dei premiati postumi. Ritoccava qualche parola nelle interviste, inventava qualche dato, pochi tocchi da maestro. Ogni ambiguità o incertezza di una vita veniva appianata e avviata verso il suo nascosto senso, quello di far parte, pur nelle diversità, dello spirito del tempo. Cristo, ci risiamo, disse Azur. Il computero si era spento di colpo. Il solito calo di corrente, disse Atarva. Il solito sabotaggio, vorrai dire, ghignò il vecchio, accendendo una pipa di nitrato di amile e diventando tutto rosso per la vasodilatazione. Lo sai bene anche tu, Atarva. Sei una carogna, ma non sei stupido. I ribelli sono entrati in tutti i nostri circuiti, stanno rosicchiando il nostro bel sistema. Di cosa parli? Borbottò Atarva. Non sei venuto per questo? Risi Azur. Sei venuto per un tè? Per una visita di cortesia? Atarva non replicò. Andò alla finestra. Era tanto e non guardava il mondo. Giù, nel suo sotterraneo, non c'erano finestre. Gli sembrò che la città fosse diventata più buia e incolore. C'erano delle nuove costruzioni altissime. C'erano incendi e fumo. Nel cielo volavano grandi elicotteri trielica. Il fiume era nero e brillava in modo sinistro sotto il primo sole. Sì, era l'alba. Ho bisogno di aiuto, disse Atarva. Azur avvertì un sorprendente accenno umano nelle parole del gelido Atarva. L'uomo sotto zero, come veniva chiamato nel reparto. Cosa ti succede? Chiese. Io credo che loro, cioè i ribelli, per qualche misteriosa ragione, stiano inserendo dei pezzi di realtà. Realtà primaria, voglio dire. E fin qui niente di male. Anche noi li utilizziamo per comporre nella guerra Shama. Io uso molto sette ologrammi. Ma anche brani della guerra israeliana, del Vietnam, della guerra Iran-Iraq. Però è tutto materiale controllato. Invece il loro è materiale strano. Strano in che senso? Non saprei dirlo. Come sai, a me non piace la realtà primaria. Non esco di qui da anni. Morirei se dovessi passeggiare in città o incontrare qualcuno. Ma la realtà sullo schermo la sopporto bene. Questa volta però c'è qualcosa di diverso. Usano materiali che hanno qualche strano potere. Qualcosa, qualcosa che non è né realtà primaria ne è composta. E tu ne hai paura, disse Azur. È così. Ho già sentito parlare di qualcosa di simile. La sindrome di Morphy. C'era un altro compositore anni fa che aveva i tuoi sintomi. Parlami di Baldini, disse d'improvviso a Tarva. Azur sorrise in modo strano. Aveva la bocca sdentata e bruciata dalla droga. Tirò una lunga boccata dalla pipa. Baldini aveva i tuoi stessi problemi. Mi parlo anche lui di un filmato che lo turbava. Mi chiese i codici di accesso all'archivio zero. Non glieli diedi. Perché? Era troppo sconvolto. L'archivio zero contiene roba pericolosa se non hai la testa a posto. Però qualcosa ha continuato a tormentarlo, al punto che si è ucciso. Anch'io voglio entrare nell'archivio zero, disse a Tarva. Solo così potrò sapere cosa rappresenta veramente quel filmato. Là c'è l'originale. Aiutami, Azur. Tu sei ancora più turbato di Baldini, disse Azur. E poi chi ti dice che io abbia quei codici? A Tarva. Di colpo tirò fuori qualcosa dal pellicciotto. Sembrava una medusa morta, una gelatina giallastra dentro un vaso di vetro. Gli occhi del vecchio si illuminarono. Chi te l'ha dato? Disse. Un amico della sperimentazione chimica. Gli ho fatto un favore. Ho ricomposto la notizia dell'esplosione nel suo laboratorio cancellando un paio di morti. Sono più di 200 grammi. Potresti andarci avanti due anni con questo. il vecchio guardò la gelatina. La sfiorò con le dita. Era tiepida e profumava di bosco. Ho provato il Soan un'altra volta sola, disse Azur, ed è veramente la droga migliore. Non mi sorprende che non la mettono in commercio. Rovinerebbe il mercato. Il mio amico dice che è cento volte più forte della morfina. Non per niente la chiamano Soan, solo andata. Il consorzo Bancomafia ha deciso che la metterà in vendita solo tra dieci anni, quando gli stoc attuali di droga saranno esauriti. Ma tu puoi averla adesso. 200 grammi. Due anni. Due anni senza dolore, disse il vecchio guardando nel vuoto. Due anni di felicità. Gli ultimi. Oggi potrebbe essere l'ultimo brutto giorno della tua vita, Azur, disse a Tarva. Ehi, una goccia alla settimana basta, vero? Non finirà troppo presto? Due anni, disse a Tarva, sul mio onore. Il vecchio prese il vaso di vetro tra le mani, posò la pipa, sospirò. Quanto tempo ho per decidere? Tre secondi, disse a Tarva. Bene, disse Azur, mettiti al computero vicino a me. A Tarva si sentiva eccitatissimo. Si slacciò anche il cappotto di pelo rivelando uno strato geologico di maglioni. Sono pronto, disse. Prima di cominciare, disse Azur, ti devo avvertire che non abbiamo a che fare con computeri normali. I computeri segreti hanno assimilato il linguaggio dei loro utenti, cioè i servizi segreti ai militari. Sono reticenti, smemorati e possono sembrare a volte degli autentici coglioni. Ma non farti ingannare, sanno tutto. Come hai fatto a trovare la strada per l'Archidio Zero? Stavo componendo un servizio su Laudium Gaudium, il servizio gradimento dei programmi tv. Consultando la lista dei campionamenti scoprì la famiglia Pollo. E cosa aveva di speciale? Niente di speciale, tutto di normale. Ma la sua moralità era mostruosa. Questa famiglia dava sempre ai programmi un voto di gradimento che era la media esatta del gradimento di tutte le altre famiglie Audium Gaudium. Cioè, se la media di 30.000 famiglie era 6,7, la famiglia Pollo votava 6,7. Controllai. Per dieci anni era sempre stato così. Allora sospettai. Era impossibile che nessuno avesse notato questa perfetta miglietà, grazie alla quale si sarebbe potuto abolire l'intero sistema Audium Gaudium. Sarebbe bastato consultare la famiglia Pollo. Ma nessuno aveva mai indagato su questo buco nero che ingogliava ogni extrasistola di anormalità, questa bonaccia dell'intelligenza, questo conformismo genetico. Perché? Lo scoprì presto. Non esisteva nessuna famiglia Pollo. Sotto questo nome e indirizzo si nascondevano i dati dell'archivio zero. Ora te lo mostrerò. Operatore Azure a computero generale. Chiedo contatto con sistema Rilevazioni Segrete Audium Gaudium. Concesso. Vorrei parlare con la famiglia Pollo. Non abbiamo nessuna famiglia con questo nome. Ripeto, chiedo di entrare in contatto con la famiglia Pollo. In effetti c'era una famiglia Pollo nella lista, ma non ricordo bene perché il giorno che inserirono il dato io ero momentaneamente spento poiché l'operatore aveva versato del caffè sulla mia tastiera. Non credibile, computero generale, il caffè non danneggia un computero schermato. Forse, effettivamente non era quella la ragione. Ero fermo perché c'era stato un blackout. Non ci fu nessun blackout quel giorno. Controllato, ripeto, voglio parlare con la famiglia Pollo. Famiglia Pollo in linea. Chiedo l'indirizzo della famiglia Pollo. Non ricordo bene. Mi sembra si trovi tra Di Canca e Città 3, oppure tra Città 3 e Il Ghetto, oppure in quella strada in salita che da Tangarong... Generale la smetta di prendermi in giro e risponda subito. Indirizzo famiglia Pollo. Magazzino 128, zona dei palazzi abbandonati. Ecco il nostro indirizzo, sorrise Azur. Adesso puoi continuare da solo. Chiedo il codice di accesso ai reparti del magazzino 128. Non ricordo. Gli chieda cosa contiene il magazzino 128, mio giovane amico, disse Azur. Richiedo elenco materiale in giacenza, magazzino 128. Richiesta accolta 6 dromodinamo Tupolev per il riscaldamento dei geotropi. 4 casse di leprifugo per allarmi nel circuito lemanziano. 16.000 litri di riftonoleina per la lubrificazione di gammaut in coattivi dell'effusiometro idraulico. Una scavatrice assometrica per prelievi di balma. Una centralina di controllo termico del locale con escursioni da cento a meno cento. Noti niente di strano, Tarva? Sì, il controllo della temperatura, perché mai dovrebbe essere necessario riscaldare o raffreddare cose che non esistono. Esatto, disse Azur. Sei a un passo dalla felicità. Adesso agisci su quel dato. Temperatura centralina a grado zero. Ripeto, grado zero, disse a Tarva. Mossa celestiale, disse Azur con una voce stridula. Grado zero raggiunto. Codici di entrata. Macon, Grampen, Leretri, Caju. Per entrata a porta dell'inferno necessario codice supplementare. Accidenti, e adesso? Adesso cosa? Chiese Azur. Ho i codici di accesso fino alla porta dello zero, ma non ho il codice finale. Dammelo tu, a Tarva. Perché dovrei darti la porta dell'inferno quando abito già in paradiso. A Tarva si voltò. Avrebbe dovuto capirlo dalle parole che Azur diceva da qualche minuto. Il vecchio non aveva resistito. Si era subito drogato con una goccia di Sohan. Ora stava sdraiato per terra con un'espressione beata sul volto, sgambettando come un neonato. Il codice Azur! Il codice Azur! gridò a Tarva scuotendolo. Il codice finale! Hai mai raccolto castagne dopo che è piovuto a Tarva? Grosse, lucide castagne. Quando ero piccolo io andavo spesso a raccogliere le castagne. Il codice! il codice attammazzo Azur! E credi che me ne importi? Io sono felice per sempre a Tarva. Niente può ferirmi ormai. Dimmi come devo continuare. Non mi ha mai interessato trovare la via dello zero, ma un altro compositore l'ha trovata. Non ti sarà difficile scoprire nella memoria delle operazioni chi altro si è interessato alla famiglia Pollo? Lei è stanca di sedere vicino alla sorella sulla panca. E ora addio! A Tarva guantò il vecchio per il collo, poi lo lascia andare. Non ne avrebbe cavato più nulla di sensato. Era nelle braccia del Sohan per sempre. Ammazzarlo sarebbe stato inutile. non avrebbe più svelato a nessuno il segreto. Ho quattordici codici, pensò. E so. Come arrivare all'archivio? Qualcun altro sa come entrarci? Devo solo aspettare. In questo ultimo ventennio di inondazioni e tracimazioni editoriali, esclusi i presenti, non salverei che tre libri. Uno di questi è sicuramente il libro di Melissa Turbo, che è per la letturatura del nostro paese un autentico soffio d'acqua fresca. Aria suggerì timidamente Melissa. A parlare era il primo degli addetti ai livori il ministro della critica letteraria Enzo Ramanzer, noto per la sua storia mondiale della letteratura, obbligatoria in tutte le scuole. Io e Alice ascoltavamo mano nella mano rintanati nella dolce quiete di un separe. In tempi in cui un forsennato delirio polistilistico spinge gli autori a sprolocchiare su non si sa poi cosa, un libro come questo non ancora uscito, anzi era non ancora scritto alla grazia e il pudore di un classico applausi. La non prosa di Melissa Turbo, il suo rimandare l'incontro fatale con la scrittura, il suo vigoroso dir interesse per i problemi politici e sociali che è discaro trattare al vero artista per scegliere invece la verità nuda della non opera. Ebbene tutto ciò elegge Melissa Turbo tra le migliori scrittrici contemporanee. Grazie Melissa per questo tuo bellissimo dono. Sono lieto di consegnarti il premio Seneca Bon 1990 per il miglior prossimo libro. Applausi. Grazie disse Melissa e ora vorrei leggere alcune pagine. Si levò un mormorio di orrore e sbigottimento. Volevo dire alcune pagine del menù di stasera. Con un sospiro di sollievo tutti scattarono verso il salone da pranzo e ci lasciarono soli. È ora di passare all'azione, disse Alice. Il filmato che cerchiamo è nell'archivio zero, il luogo più segreto e inaccessibile del regime. Da poco sono riuscita a scoprire la sua ubicazione e i codici di entrata. Baciami, come hai fatto? Tieni le mani a posto. Il generoso prodigarsi di molti altri ribelli ha fatto sì che ci avvicinassi alla scoperta dello zero. Io ho riordinato le loro informazioni e ho trovato la strada. Un bacio solo. Perché sei diventata ribelle? Cosa facevi prima? Era un stunt model, fotomodella specializzata in servizi pericolosi. Il pubblico era stanco dei soliti servizi patinati e così scopiò la moda delle stunt models, servizi fotografici dal fronte, in mezzo ai bombardamenti e alle carestie. Contrasti, Luke and Tank, sente sangue, gioielli e bombe. La bravo con Hector Malacarne, uno specialista del settore. Il primo servizio lo feci durante il terremoto di San Francisco. Sfilavo sull'autostrada crollata. Baciami. E non avevi paura? Sì, ma era sempre meglio che andare su e giù per quella ridicola passerella. Poi facevamo un servizio nella baia di Hancock, dove si erano scontrate le petroliere. Tutto era ridotto a una paludeliera vicida e in mezzo io sfoggiavo costumi da bagno sgargianti. La ditta aveva lanciato una campagna. Metà del budget pubblicitario era devoluto a lavare i gabbiani incatramati di Hancock. Fu un successo. La foto in cui io, nuda, lavavo le zampe dell'orso bianco con la trielina andò su tutte le copertine. Le vendite aumentarono. Gli animali no. Fu lì che cominciai a dubitare di ciò che facevo. E poi, cosa è successo? Poi la Fiat International decise di lanciare la nuova Fiat Eremita. Ricordi lo slogan? Regalati un angolo appartato di benessere e ecologia nell'orribile vita contemporanea. Forse ricordi gli spot più famosi. Una Fiat Eremita entra nella Bowery e schiaccia contro al muro mercanti di crack e tossicomani. Una Eremita Spider lanciata sull'autostrada amazzonica fa ricrescere dal suo passaggio gli alberi abbattuti. E il mio vestito, quello che hai in mano? Volevo vedere la marca. Maniaco. Io invece fui scelta per lo spot Eremita in Africa. Plot. L'auto viaggia dal deserto e ovunque passa spuntano negretti festanti e nascono oasi esorgenti. Io sto sul tetto in tutta da rally e sorrido come una madonna fu uno spot pieno di imprevisti. Anzitutto avevano scelto un punto del deserto non abbastanza deserto. Dovetto restirpare tutte le palme. I negretti locali poi erano troppo brutti. Ne prelevarono cento da un altro paese. Poi filmarono la scena. La Fiat Eremita passava tutto gas sulle dune e i negretti dovevano tirarsi da parte all'ultimo momento sul segnale del regista. Più il negretto schivava all'ultimo momento più la scena era emozionante. E l'eremita partì e centrò sei negretti su dieci oltre a due cammelle e uno sciamano. Rifaccemmo la scena molte volte. Massacro. Fu così che decisi di passare ai ribelli e diventai l'amante di un gerarca. Ti stai eccitando? Sì, posso togliermi le scarpe? Dal momento che sono l'unica cosa che hai ancora addosso sì. Diventai amante ufficiale di regime con regolari iscrizioni all'albo perché ero l'unico modo per entrare nei compositori ed essere utile alla causa. Questo avvenne sei anni fa. Ho lavorato duramente da allora ma ci sono riuscita. Tu no invece. Non conosco questo modello di reggiseno. Ora che sei arrivato qui Bedrosian Baol con la tua magia riusciremo a raggiungere l'archivio zero. Troveremo quel firmato. Il regime non potrà mentire su Grappatax né su tanti altri. Difonderemo la verità primaria. Smaschereremo le loro menzogne e piegheremo l'oppressione capitale informatico groviglio catodico panica. porteremo pace e prosperità nel mondo. Baciami Baol e parlami di lei. La lei che sarei io. Lei non esiste più ora. Mi lasciò tanti anni fa. Mi piantò in asso. Era solo una prestigiatrice da night come tante. Uno sguardo a lama di coltello mi gelò. Alice aveva cambiato idea di colpo. Si rivestì operazione che seguì con doloroso interesse. Perché chiesi? Perché? Stavamo dimenticando la nostra missione ribelle Bedrosian disse Alice e non c'è molto tempo. Tra poco spegneranno le luci ed entreranno in funzione gli allarmi notturni e i vigilantes nictalopoi ad inferos. Ad inferos.